Il caso giacro può funzionare Ma che dici? Fede, ti farei un sacco di mali E alla fine mi lo diresti Tu secondo me non sei un cazzo Facciamo un gioco Si chiama Martino e Niccolò minuto per minuto Funzione che praticamente dobbiamo pensare soltanto al minuto successivo Ti piace? Si Adesso devo andare, scusa Ciao Ciao Ehi, ciao Ci siamo lasciati, non stiamo più insieme Ho visto bene, davvero Ci cresce Sono rimasti i soggetti D'accordo? Si Confogliata Di capire da solo quello che... Che sento E che senti? Chissà o no E cosa è bellissima E non mi era mai successo per uno E' un verano Dico! Dico! Io non voglio stare con te Io non voglio stare con te Io non voglio stare con te Guarda che non è così Questa sarà un'altra cosa folle e assurda Un senso Smettila di pensare al futuro Godiamoci questa cosa Ogni giorno Con serenità